Ciao a tutti, sono il maestro Fide Alessandro Santagati e in questo video commenterò una partita da giocare nel campionato europeo a squadre tra la squadra di Padova e l'Alcoid, spero di averlo detto bene. In questa partita abbiamo contrapposti da bianco il grande maestro Daniele Vocaturo contro il grande maestro Elianov, ricordiamo Vocaturo ormai un giocatore over 2006, questa partita credo abbia 2006-20 contro Elianov, over 2006, dunque partita molto interessante, partita decisiva perché con questa ottima vittoria di Vocaturo la squadra di Padova ha pareggiato, vediamo un po' la partita, allora il bianco gioca E4, che è Vocaturo, E5, cavallo F3, cavallo C-Self, ed è B5, dunque abbiamo una partita spagnola, cavallo F6, A-Rock. Qui non mi soffrono molto che c'hanno tantissimi modi di giocare questo tipo di apertura, in questo caso il nero ha deciso di prendere in E4, che va bene. L'idea è che dopo Torre 1, cavallo D6, il bianco, riprendi il pedone e il nero poi si sviluppa con l'alfiere per arroccarsi il prima possibile. E ora, dopo Alfiere 7, l'alfiere rimane in presa, ovviamente non poteva prenderlo prima perché se l'avesse preso prima, allora chiaramente segui il cavallo per C6 con attacco sulla donna e il bianco ovviamente vince la regina, dunque prima giustante il nero fa Alfiere 7, a questo punto l'alfiere è attaccato e il bianco sceglie Alfiere F1. Ma su questa mossa possiamo spendere due parole, chiaramente la mossa è giocata tantissime volte, dunque per un giocatore esperto è una banalità, tuttavia per magari chi non è così esperto dell'apertura, chi non è così esperto della posizione, può chiedersi perché l'alfiere va proprio su F1 e non su altre case. Diciamo che E2 non poteva andare perché il cavallo ovviamente sarebbe stato sotto minaccia dell'altro cavallo, dunque in D3 non può andare neanche perché bloccherebbe il pedone. Dunque l'altra alternativa valida oltre ad F1 poteva essere Alfiere A4, tuttavia l'idea del bianco in questo caso è di mantenere l'Alfiere su questa diagonale per non dare al nero degli spunti di attacco, magari era più facile per il nero attaccare l'Alfiere A4 e magari in futuro può riproduzionare questo Alfiere, magari anche sulla casa D3 per attaccare il lato di Re. Dunque questa è l'idea di base. Dunque Alfiere F1, cavallo per E5, ovviamente torre per E5, arocco corto, D4. Altra mossa molto logica, il bianco prende e spazia il centro e qui il nero gioca Alfiere F6. Altra mossa di sviluppo normale, torre E1 e poi torre E8. Ora, oltre a torre E8 che è ovviamente una mossa logica, un'alternativa potrebbe essere B6, che sembra una mossa normale per sviluppare i pezzi, perché poi l'idea di fare Alfiere in B7. Tuttavia c'è un piccolo problema qui, il problema è che il cavallo in D6 non è piazzato benissimo e dunque sul B6 subito il bianco avrebbe risposto a Alfiere F4, che mira a creare dei problemi su questo cavallo. Cioè se il nero continua con Alfiere B7, il bianco decide di cambiare e crea un'impedonatura, una brutta struttura per il nero diciamo. Per questa ragione è importante per il nero non fare B6 subito, ma fare prima torre E8, perché dopo i cambi il cavallo si porta in E8 e dunque può essere riposizionato su una casa diciamo migliore, magari il nero fa poi D5 e poi sviluppa il cavallo. Allora abbiamo detto che il nero potrebbe essere D5, cioè se per esempio il bianco anziché la mossa che ha giocato C3, cioè la mossa che ha giocato è stata D5 e giocasse per esempio C3, il nero risponderebbe D5. E poi il cavallo sarebbe libero di posizionarsi in una casa utile e magari poter puntare su E4 o C4. Anche questa è una posizione giocabilissima per il bianco. In questo caso Vocaturo ha deciso di anticipare la spinta dell'avversario giocando D5, che ha ovviamente dei dati positivi ma anche dei dati negativi. Allo lato positivo è che prendiamo spazio, dunque blocchiamo il gioco del nero. Il dato negativo è che comunque apriamo la diagonale al sfida dell'avversario e che non c'è un grandissimo supporto su questo pedone. Dunque una buona mossa, però ripeto, con lati sia positivi che negativi. Dunque il bianco cerca di prendere spazio. Vediamo un po' come il nero ha risposto a questa idea. Nero giustante ha giocato D6, per rendere possibile anche lo sviluppo. Cavallo D2. A questo punto Italiano gioca una buona mossa, una buona mossa a livello strategico, che è la mossa C6. Chiaramente abbiamo visto che il bianco prende spazio con il pedone D5, il nero non vuole lasciare al bianco così tanto spazio. E allora è molto importante per il nero contrastare il pedone D5 con C6, per cercare di togliere di mezzo questo pedone. E qui di vocatura ho una buona idea, perché l'idea è di giocare cavallo C4. Dunque di non prendere in C6, che non darebbe nulla, perché dopo B per C6, il nero avrebbe una struttura solida al centro. Ma di giocare cavallo C4, dunque di puntare sul pedone D, che è su una casa comunque debole. Dunque di creare pressione su questo pedone. Chiaramente il nero può prendere come poi ha giocato, tuttavia il pedone D6 rimane isolato. Dunque al fine donna C7, C3, al fine C6 donna D3. Dunque si crea una classica posizione con il cosiddetto pedone centrale D isolato. Una posizione ancora equilibrata, dove abbiamo dei fattori positivi per il nero, perché il fattore negativo è che è il pedone isolato. Ma il fattore positivo è che ha una buona attività con gli alfieri, e che diciamo comunque il bianco e i pezzi un po' più persi che adesso. Dunque il bianco è una struttura più solida, il nero possiamo dire che ha una maggiore attività con i pezzi. E dunque è sempre una posizione equilibrata. Alfiere E5. Mossa logica, l'idea del nero è cercare di costringere il bianco e crearsi De Boet sulla Rocco. Ricordiamo che quando abbiamo il pedone isolato l'obiettivo deve essere quello di creare un gioco attivo dinamico, e dunque questa mossa va in questa ottica, dunque G3. E cavallo F6. Porti in gioco il cavallo, cercando di avere la maggior forza possibile. E qui cavallo C2. Altra mossa logica, il bianco deve consolidarsi, dunque l'idea di cavallo C2 è sicuramente di sviluppare l'alfiere, con possibilità o alfiere G5 o alfiere E3 e D4, per magari provare a cambiare qualche pezzo. Perché in queste posizioni il bianco ha interesse a consolidare e magari a cambiare qualche pezzo leggero per impedire che il nero possa creare grandissimi attacchi. Donna D7. Altra mossa tipica, logica. Quando si costringe il bianco a fare G3, il bianco indebolisce le case chiare. E dunque la donna vuole in qualche modo pressare su queste case. Cavallo D4. E qui, credo che arriva il primo vero e proprio errore da parte di Elianov, che è giocare l'alfiere H3. Una mossa che è tipica, perché un buon modo di attaccare il fianchetto è quello di sfianchettare, cioè di togliere questo alfiere per poi portare donna, cavallo e creare un attacco del genere. Tuttavia poi nella situazione pratica bisogna vedere se questo è possibile. Ora, in realtà, diciamo, non lo è così tanto, perché se noi andiamo a calcolare la variante, dunque se il bianco per esempio cattura, cosa che non è accaduta in partita, donna per H3, ora lui vorrebbe fare cavallo G4, però noi possiamo fare cavallo F3. Cavallo G4 non convince perché il bianco può anche disinteressarsi, il cavallo F3 rimane a difesa del pedone senza che possa essere cacciato. Dunque, questa è una buona opzione. E su cavallo F3, se il nero gioca altre mosse, non so, per esempio, giocasse alfiere C7, allora arriverebbe alfiere E3, se il cavallo G4, alfiere D4 e sostanzialmente anche se la donna sembra, cioè effettivamente ha una posizione molto attiva e il cavallo attaccano, non ce ne prende nessun modo per togliere di mezzo questo cavallo, dunque l'attacco del nero non produce alcun effetto e il bianco sarebbe un chiaro vantaggio a questo punto. perché senza attacco poi i pezzi sono scordinati, la debolezza D5 diventa insostenibile e il bianco con un gioco corretto qui sicuramente riesce a ottenere vantaggio. Dunque, questo è molto interessante perché l'ide alfiere H3 apparentemente sembra buono, tuttavia un errore e ha un buon modo di contrastare l'alfiere per H3, donna per H3, cavallo F3, perché dopo questa mossa non c'è modo per il nero di creare un attacco valido, cioè cavallo G4 non funziona perché non c'è modo di togliere di mezzo questo cavallo. E ciò rende la partita molto molto interessante. Dunque alfiere H3 è un errore da partenaria, tuttavia qui Vokadur non ha preso, ha giocato alfiere G5, probabilmente vautava un pericoloso quell'attacco che in realtà non lo era poi così tanto e qui Elianov decide di cambiare, torre per F1 e poi H6, alfiere per F6, alfiere per F6. Ora, sia in questa partita ma anche nelle altre che possiamo vedere del cambiamento da squadra, Vokadur è riuscito a vincere contro giocatori molto forti con un ottimo gioco di carattere posizionale, cioè capire bene quali pezzi cambiare. E qui un'altra mossa molto molto precisa da parte di Vokadur, perché è sicuramente giocabile tornare indietro, però l'alfiere per F6 è precisa perché chiaramente vuole ridurre il numero dei pezzi leggeri, perché il cavallo potenzialmente potrebbe essere pericoloso, sì che può difendere però qualche insidia c'è sempre, mentre togliendo il equivocatore lo semplifica, creando una posizione in cui il bianco ha un cavallo molto forte in D4, l'alfiere non è così male però non è neanche così tanto attivo, e soprattutto il pedone D5 isolato rimane lì, e dunque è sempre un obiettivo da parte del bianco. Torre D1 giustamente attacca, donna A4 e qui A3 per difendere il pedone, torre D8, re G2, mosse di consolidamento, perché comunque il nero non ha un contro giocativo, A6, cavallo F5, dunque l'idea del bianco è di poter potenzialmente con questo cavallo creare sia minacce sul pedone sia minacce potenzialmente sul re, dunque G6, e qui arriva un altro re da parte di Elianov. Ora, come vedete, quando un giocatore, per esempio un 2007, ma comunque un giocatore molto molto forte, commette ieri quando li commette, quando si trova sotto pressione, cioè questa è una posizione molto complicata per il nero, perché non ha sostanzialmente mosse, cioè non so se giocasse una mossa qualsiasi tipo torre D7, allora il bianco potrebbe giocare con molta calma a cavallo E3, e poi il pedone andrebbe praticamente perso, perché comunque abbiamo sempre un modo o un altro per catturarlo, dunque andrebbe perso. Tuttavia già una posizione del genere forse potrebbe essere sostenibile, perché magari il nero potrebbe recuperarlo con mosse del genere, perché c'è il cavallo in presa, dunque non può spingere. Dunque per il nero sarebbe stato meglio aspettare con mosse come torre D7, tuttavia è molto complicato a livello pratico giocare queste posizioni, perché sono posizioni in cui il bianco praticamente gioca su due risultati, mentre il nero può solo sperare in un pareggio. Anche per un giocatore top diventa complicato gestire una posizione del genere. Qui Eliano gioca G6 ed è un errore. Io penso che lui non abbia visto che dopo cavallo per H6 e Regi7 c'era Donna F3, suppongo. Penso gli sia sfuggita questa mossa, perché se no non c'è altra spiegazione, perché è ovvio che lui abbia visto cavallo per H6 e Regi7. Forse ha visto che il cavallo rimaneva intrappolato, tuttavia c'è Donna F3 che se prende, prende l'alfiere, dunque al bianco va benissimo. Il nero ha risposto al fiere in G5, cavallo G4. Dunque qui il vocatore ha guadagnato un pedone. F5, cavallo E5. Donna E4, cavallo D3. Chiaramente non è conveniente cambiare le donne qui, perché per esempio se cambiamo di per E4, la struttura del nero si consolida. È ovvio che abbiamo sempre un pedone di vantaggio, però aiutiamo un po' il nero a sistemare la posizione. Dunque cavallo D3, D4. C4. Questa è una buona idea, C4, perché il pedone D4 rimane bloccato e in frutto del bianco ha l'obiettivo di fare magari B4, C5, E4, B5, C6. Cioè l'obiettivo è di crearsi un pedone passato sul lato di Donna, ovviamente nel lungo termine. Torre C8, C5. Il pedone giustamente viene portato avanti, anche per le posizioni difensive. Torre E8 e poi B4. E F6. Sembra un po' strano che il nero portiere avanti, però effettivamente non c'è modo di attaccarlo in maniera chiara. Dunque H4, alfio H6 e poi Torre E1. Costringendo ovviamente il nero a cambiare le donne e poi si effettuano questi cambi. Come vedete, è fondamentale per vocaturo, per il bianco qui aver lasciato il pedone in D4, perché comunque è un'ulteriore debolezza. Cioè il bianco oggi ha un pedone di vantaggio, ma l'ulteriore debolezza di D4 fa sì che la stucca al suo finale sia vinto. Se magari il pedone fosse stato in E4, sì, il bianco può provare a vincere, è molto molto più complicato, molto più difficile. Dunque è fondamentale capire anche quale struttura pedonale raggiungere in finale. Re D4, Re E2, e dunque entrambi i giocatori punti alla migliora di Re, Re D5, Re D3, alfiere C1, tavolo C2, perché chiaramente il bianco difende il pedone. Alfiere B2, F3, piano semplice, G4, H5, crearsi un pedone passato. Il nostro vantaggio del bianco è che potenzialmente può crearsi sulle entrambe le parti, ovviamente qui no al momento perché ci sta il Re, però il lato di Re ha una certa libertà. Alfiere C1, G4, F per G4, F per G4, e poi dopo alfiere B2, diciamo che il nero ripete le mostre perché non ha altro da fare, H5, G per G per, alfiere C1, cavallo A1. Idea di poter anche portare il cavallo in B3, perché può catturare il pedone. Ora se per esempio catturo il pedone in A3, che potrebbe essere un'idea, semplicemente H6 il pedone non si può fermare, e il bianco va reggina. Dunque dopo cavallo A1 non può catturare il pedone, dunque giocare A6, cercano di bloccare quel pedone, però ha quel punto A4. Dunque se il Re, se il Re va da questa parte, crea un altro pedone passato da quest'altra, dunque non c'è modo di bloccarle, per questa ragione, in questo caso, Eliano lo abbandona, dopo Re D5, perché comunque, Eliano può anche giocare molto semplicemente B5, cioè dopo Re D5 abbandonato però, perché c'è comunque semplicemente B5, non so, A per B5, non può prendere il pedone, perché ovviamente c'è il doppio, e non so se gioca la mossa qualsiasi, cavallo B3, lui deve muovere ancora, perché non ha altre mosse, non so, muove l'alfiere, C6, presa, B6, e vince perché, non c'è modo di bloccare questo pedone, cioè almeno, l'alfiere può bloccarne solo uno dei due, e, il bianco, vince, vince la partita, dunque una bella vittoria da parte di vocaturo, bella partita davvero, vinta contro un giocatore importante, spero che la partita vi sia piaciuta, è il mio commento, se avete delle domande, chiaramente scrivete sotto nei commenti, saremo felici di rispondere, grazie ancora per aver visto il video, e ci vediamo per i prossimi video, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!